Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura torniamo a parlare della bimbo precipitato dal terzo piano di una palazzina in avvia della Trionfo. Ieri in tarda mattinata, oggi notizie confortanti dall'ospedale Meyer di Firenze. E' fuori pericolo di vita il bimbo di 4 anni precipitato dal terzo piano di una palazzina di via del Trionfo nel quartiere di Seione. Un volo di circa 10 metri, un terribile incidente che ha lasciato quel fiato sospeso la comunità aretina. E' una famiglia deliziosa. Io credo che le persone educate così non se ne trovano tanto. E anche il babbo del bambino era troppo, troppo bravo. Sono bravo, non era, sono bravo. Dall'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove il piccolo era stato e ritrasportato in codice rosso, adesso aggiornamenti confortanti. Il bimbo, ricoverato in rianimazione, è stabile e non si teme più per la sua vita. L'incedente è nella tarda mattinata di lunedì attorno alle 13. Il bambino, nato ad Arezzo, figlio di una coppia straniera, si trovava in casa con la madre che stava allattando il fratellino ed alcuni zii. Si sarebbe trattato di una fatalità. Il piccolo stava giocando quando si sarebbe arrampicato sul divano accanto alla finestra aperta, poi si sarebbe sporto precipitando nel vuoto per diversi metri. Sul posto, oltre ai sanitari dell'emergenza urgenza, era intervenuta anche la polizia di Stato e la scientifica che aveva eseguito i rilievi. Sono in corso indagini per far piena luce sulla vicenda. Parliamo adesso di Superbonus. Le ultime modifiche sul recupero dei crediti non convincono le categorie. Vediamo perché. Fa discutere il cosiddetto decreto Spalma Crediti che fa recuperare in 10 anni anziché 5 il credito dovuto ai lavori edilizi legati al Superbonus. Le categorie economiche sono fortemente critiche per questa misura. Quello che mi sento di contestare è la retroattività eventuale di questa norma, che ancora non è ben chiaro come verrà applicata, e tutte le conseguenze del caso. Tra le modifiche, quello che critico maggiormente è per esempio la modifica del bonus, quello classico, il vecchio bonus del 50%, che ha tenuto per anni il settore economico attivo. Era un bonus ottimo, chiunque ne poteva usufruire, e anche questo era decennale. Nella proposta si parla di una riduzione al 30%, sempre in 10 anni. Questo secondo me non vorrei che possa portare con sé una conseguenza economica ancora più grave, perché questo bonus aveva, secondo me, fatto scomparire l'evasione, perché nessuno più faceva lavori senza richiedere una fattura. Non vorrei che, battendolo al 30%, dovendo comunque pagarci un IVA che è un 10%, si possa verificare quel fenomeno terribile dell'evasione. E questo porterebbe un doppio danno, sia per i fruitori, ma non ultimo per le casse dello Stato. Spero che questo sia stato ben valutato. Voi avete puntato l'accento anche proprio sul discrimine delle aziende, cioè non ci sono delle regole che scremano chi poi può accedere a questa misura? Questa è un'altra cosa, a mio avviso, gravissima. Io da quando è partito questo bonus mi sono sempre battuto per quello che potevo nel sostenere che si parla di soldi pubblici e come tale doveva essere trattato come lavoro pubblico. Questo perché? Perché per accedere a un lavoro pubblico servono dei requisiti importanti, serve una qualificazione delle aziende e ci sono dei controlli. Questo non è stato fatto e ha portato al fenomeno che è sotto gli occhi di tutti. Quindi una crescita di 12.000-15.000 nuove aziende, ma che di aziende non hanno nulla. Sono scatole vuote che hanno praticato bonus, nella migliore delle ipotesi, hanno avuto una funzione general contractor e hanno anche eseguito i lavori, ma nella migliore delle ipotesi. Gran parte di questi probabilmente hanno speculato e hanno creato il danno economico che è sotto gli occhi. Pioggia di multe stradali in Toscana nella 2023 dall'analisi realizzata da Facile.it. Il comune di Arezzo si attesta a metà classifica. Arezzo nel 2023 ha incassato oltre 4.200.000 euro in multe sanzioni a carico di privati per violazioni alle norme del codice della strada. Il dato emerge dall'analisi realizzata da Facile.it sui dati del SIOP e il sistema informativo delle operazioni degli antipubblici. In cima alla graduatoria regionale Firenze, comune capoluogo che ha incassato i maggiori proventi da multe e sanzioni, toccando quota 71,8 milioni di euro. A seguire Livorno, Siena e Grosseto chiude invece la classifica che è rara con oltre un milione e mezzo di euro ricavati da multe. Complessivamente nel 2023 i comuni capoluogo Toscani hanno incassato più di 124 milioni di euro. Analizzando il valore pro capite calcolato come rapporto tra proventi e numero di abitanti e residenti, al primo posto si trova ancora Firenze con 198 euro annui per Fiorentino. Il dato a retino invece si attesta a 44 euro nel mezzo della classifica. Guardando infine comuni con meno di 3 mila residenti, in vetta alla classifica si posiziona Campagnatico, provincia di Grosseto, che conta 2.353 abitanti e nel 2023 ha incassato più di 805 mila euro in multe stradali. Maggio è il mese della prevenzione della melanoma. Farmacie comunali di Arezzo, in collaborazione con il Calcit, lanciano così le mattinate di mappatura dei nei. Torna sabato 25 maggio la mappatura dei nei per la prevenzione del melanoma ed altre patologie cutanee. Maggio, infatti, è il mese della prevenzione del melanoma e di conseguenza l'iniziativa promossa dalle farmacie comunali di Arezzo in collaborazione con il Calcit ha il duplice obiettivo di sensibilizzare verso l'importanza di effettuare controlli periodici per monitorare il proprio corpo ed informare sulle piccole accortezze necessarie per prendersi cura della pelle in vista della stagione estiva. Diciamo che il momento è già questo perché il sole comincia a essere già significativo, è molto più forte ora che a ferragosto, quindi le attenzioni per il sole vanno iniziate fin da ora e soprattutto va sensibilizzato proprio la popolazione a proteggersi e queste iniziative servono proprio a questo, a sensibilizzare, a proteggere la propria pelle e ogni tanto guardare le macchie, diciamo così, che sono presenti sulla pelle. Gli ambulatori della farmacia comunale San Giuliano ospiteranno così le visite su prenotazione che permetteranno di effettuare una valutazione della pelle finalizzata ad una diagnosi di lesioni sospette o neoplastiche. Quelli che vengono, anche comunemente detti nei, allora il problema è che se succede qualcosa su queste lesioni, se si trasformano in lesioni pericolose tumorali, cambiano. Quello che bisogna guardare nella nostra pelle sono i cambiamenti, una macchiolina che magari è stata per anni sempre uguale comincia a crescere, ad allargarsi, a cambiare forma, a cambiare colore, a cambiare i bordi, sono tutte alterazioni che naturalmente con una visita si riescono a cogliere ancora meglio, ma è il paziente stesso che se presta un pochettino di attenzione riesce a notare questi cambiamenti e quindi farsi vedere, farsi controllare. Un corso di formazione sulle attività multisensoriali per il benessere delle persone con disturbi del neurosviluppo. L'iniziativa, che prenderà avvio nel mese di giugno, sarà rivolta ad educatori fisioterapisti addetti all'assistenza di base dell'Istituto Madre della Divina Provvidenza dei Padri Passionisti di Agazzi e verrà sviluppata attraverso quattro incontri dove saranno approfonditi modelli di intervento terapeutico in cui la stimolazione dei cinque sensi è strumento per portare benefici in ambito fisico, psicologico, espressivo, relazionale e comportamentale. E si svolgerà invece venerdì 24 maggio, nel corso della mattinata, il presidio della funzione pubblica Cisla di Arezzo davanti all'ospedale del Valdarno. Un'iniziativa promossa dalla sindacato per chiedere una serie di miglioramenti e impegni proprio a sostegno dell'ospedale della Gruccia. Tra le richieste alla base della manifestazione, investimenti e attenzione su tutti i reparti, una ginecologia da valorizzare, incremento del personale per ridurre le criticità dei reparti come le medicine e un laboratorio analisi autonomo ed operativo. E adesso voltiamo pagina, Margherita Cassano, la prima presidente donna della Corte Suprema di Cassazione in visita a Rondine. Ieri l'incontro privato e poi la lezione agli studenti del quarto anno Rondine e dei giovani internazionali della World House, un escursus che è partito dalla storia della Costituzione italiana per poi ripercorrere lo sviluppo della legislazione sino ai giorni nostri con uno sguardo attento ai diritti delle donne, passando per l'evoluzione del linguaggio di genere fino ai momenti cruciali dell'inclusione delle donne nelle cariche dello Stato. Sentiamo le sue parole. Oggi riparto dopo aver visitato la struttura della Rondine, particolarmente arricchita perché ha avuto la dimostrazione più autentica di cosa significa scuola nel senso più alto del termine, di che cosa significa rispetto dell'altro e della sua dignità e quali sono i percorsi realmente praticabili per conseguire la pace e il rispetto della democrazia in ogni ordinamento. Si è conclusa la quarta edizione del simposio internazionale di scultura monumentale Pietra Sublime, quest'anno dedicato agli eccidi del luglio del 1944. 12 scultori, 4 donne ed 8 uomini provenienti da ogni parte del mondo per un segno di pace. Il mio rappresenta una coppia di giovani che guardano in avanti in modo pacifico e un mondo diverso, ecco, un'utopia. E' così calato il sipario sull'edizione 2024, la quarta in ordine di tempo, del simposio internazionale di scultura monumentale Pietra Sublime, quest'anno dedicato al ricordo degli eccidi del luglio del 1944, 192 civili innocenti che persero la vita tra Castelnuovo de Sabbioni e Meleto Valdarno. Tema molto difficile da sopportare a livello creativo, mentre le altre tre manifestazioni sono state a tema libero, che gli ho dato io il tema libero, questa abbiamo dovuto mantenere un rispetto degli 80 anni dalle cidi nazifascisti della seconda guerra, pertanto la creazione di un tema così su una scultura monumentale in pietra non era una cosa troppo semplice. Gli artisti sono impegnati dando vita, diciamo, rinascendo dalle sceneri come la Fenice e come anche la natura in generale. La cosa più interessante credo sia stata la commissione di culture che poi si può anche notare nelle opere stesse, nelle asperità magari di artisti che vengono da paesi come l'Ucraina o la Georgia e morbidezze di chi viene dalla Cina, un gioco di armonie di Ying e Yang. Quindi direi che è stato veramente interessante per tutti vedere questa fusione di culture. Le statue adesso nei luoghi degli cidi per lasciare sul territorio un segno tangibile, concreto di pace, fratellanza e scambio culturale. In piazza San Francesco, negli spazi di Nero Design, l'esposizione Amai dei fratelli Calgaro. La fotografia è uno specchio e per me diventa un modo di fermare le persone che sono attorno a me e fermare le persone che ho dentro di me come i miei genitori. Amai è una specie di diario visivo dove lo sguardo non vuole essere nostalgico ma solo più intimo. Una mostra di fratelli Calgaro alla Nero Design Gallery in piazza San Francesco ad Arezzo. Un fotografo importante italiano che si chiama fratelli Calgaro ma in realtà è uno solo, si chiama Giuseppe Calgaro. Lui sdoppia questo nome già per far capire che per lui è importante il senso della copia, del riferimento che si ripete. Oggetti comuni d'uso quotidiano vengono presi e analizzati a suo modo, congelati nello spazio e nel tempo oppure elaborati in teorie di soggetti che diventano oggetti e viceversa. E anche la vicenda personale entra nel racconto iconografico di Calgaro. In esposizione lavori recenti ed altrimenti uniti da un filo rosso, la persistenza o meno della materia sulla forma che cambia. Io nasco come un fotografo pubblicitario e lavoro per dei giornali e per dei brand di moda, ma nel 2004-2005 ho fondato la Fratelli Calgaro che è una specie di, sono sempre io alla fine, però è il mio modo di lavorare senza committenza, cercando di fare una ricerca staccata dal dover e fotografare qualcosa che serve a qualcuno. E quindi ho iniziato questo lavoro che continua in parallelo col mio lavoro commerciale ed è qualcosa che mi accompagna da anni e che mi permette anche di amare la fotografia in modo diverso, non solo di utilizzare la fotografia. Scoprire il mondo ed aprire nuove frontiere. Il tema dell'evento organizzato dalla FIDAPA di Arezzo per la 17 del prossimo venerdì 24 maggio nella sede del Mumec che vede come protagonista Orietta Lanciano, astrofisico in forza all'Agenzia Spaziale Italiana che vanta un ricchissimo curriculum accademico e professionale. In occasione dell'evento sarà trattato il tema della scoperta scientifica e degli sviluppi del progresso tecnologico di vertice in relazione al bacino di ricerca dell'Asi in cui Orietta Lanciano è impegnata ma anche in relazione alla figura femminile. E oggi invece spegne 18 candeline Gaia Russo, la giovane di Subbiano che in questi anni si è battuta assieme al padre per la ricerca su una malattia rara. Gaia Russo ha raggiunto dunque la maggiore età, un traguardo importante che per la giovane con grande determinazione ha affrontato una battaglia difficile, quella della mitofusina 2 a sostegno della ricerca condotta dall'Associazione Dino Ferrari per una terapia per questa malattia rara. A Gaia i migliori auguri da parte di tutta la nostra redazione. E adesso lo sport, torna al Parco Pertini, mette in piazza lo sport l'iniziativa del quartiere di Porta Sant'Andrea in programma sabato 25 maggio. Inizierà in piazza San Giusto alle 15.30 nella palestra del tennis tavolo ma si svolgerà principalmente al Parco Giotto dalle 16 dove saranno protagoniste le numerose associazioni sportive locali. La manifestazione includerà anche la seconda tappa dell'esordia di 2024 provinciali Fidal, un circuito di gare di atletica reggera riservate ai ragazzi tra i 6 e gli 11 anni in collaborazione con l'atletica Sestini Arezzo. Il palazzetto del nuoto di Arezzo invece ospita una nuova giornata dedicata esclusivamente ai neonati. Domenica 26 maggio è in programma una nuova edizione del Baby Aquatics Day tra le 9.30 e le 12.00, proporrà un ciclo di lezioni a partecipazione gratuita per i bimbi nella fascia di età 03 che potranno così vivere le emozioni delle prime esperienze in piscina assieme ai loro genitori. Questa per resta sera era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione, arrivederci.